Sì, ho provato, sapevo che ne avevo di meno di lui, quindi ho provato a tenerlo dietro e sì, finché era stretto è stato dietro, poi nulla, dai, alla fine ne aveva di più e mi ha staccato facile Come a Capoliveri comunque hai avuto una partenza abbastanza nelle retrovie e poi sei risalito nella seconda parte di gara Cominciamo a capire una condetta che è strutturata un po' così, tu cosa ne pensi? Sì, sì, sicuramente le partenze non sono il mio forte e oggi poi sì, in realtà ho fatto parecchia fatica a metà gara, ero sempre lì che mi staccavo, poi rientravo e poi dai, verso il finale stavo abbastanza bene quindi ci ho provato